La Regione ha fortemente voluto questa iniziativa di due giorni per lavorare di concerto con istituzioni e tecnici sulla nuova programmazione 21-27. Un punto sulla giornata istituzionale che si è svolta il 29 luglio. La giornata istituzionale che si è svolta il 29 luglio ha segnato una novità che è un modello fondamentalmente, cioè il modello di dire che le idee sono chiare, le linee sono tracciate, però all'interno di queste linee la strada si fa insieme. Strade che come sappiamo sono sempre irte, piene di buche, però un conto è seguirle in una via della solitudine, un conto è seguirle in una via dello stare insieme. La scelta di questa amministrazione, della Presidente Santelli e della Giunta è la via dello stare insieme. Ieri sono emerse diverse considerazioni da parte dei sindaci, i temi più toccati sono stati il lavoro, il riciclaggio dei rifiuti e le infrastrutture. Quali saranno le tematiche che verranno toccate oggi? La giornata è stata suddivisa in sette tavoli tematici, di cui i primi cinque rappresentano i cinque macro obiettivi che dà l'unione nella proposta di regolamento per la nuova programmazione 21-27. Gli altri due tavoli sono due tavoli trasversali a cui si attribuisce molta importanza. Un primo tavolo sulla capacità istituzionale, cioè sulla capacità dell'amministrazione di essere all'altezza delle sfide fondamentalmente. Il tavolo 7 è viceversa, è un tavolo di scenari in cui si immagina un nuovo turismo, un nuovo modello di sviluppo, una nuova interpretazione di quella che sarà la Calabria del futuro. Quindi sono tavoli dai quali ci si aspetta moltissimo, aspettiamo spunti, aspettiamo indicazioni che sicuramente la politica, la giunta, saprà tradurre in atti di indirizzo e poi il lavoro dei tecnici di provare a farlo diventare un programma condiviso.